Perché i tedeschi, dopo l'armistizio, si ritirano dalla Sicilia e, seguiti dagli alleati, fanno saltare il conto, fanno saltare il panorato, e poi infatti è stato di costruito. Per fortuna, l'80% del conte rimane in tappo, non l'hanno voluto distruggere perché sarebbe bastato mettere la mina all'interno della colonna per il civile. Quindi le colonne rimasero, i tiranti, le catene rimasero, il gran parte delle catene in sospensione pure sono originale. E' stato rifatto, diciamo così, nel balcone. Però perché è veloci un po'? Perché su questa targa, che è del 1998, è scritto qualcosa che bisogna leggere. Ve lo leggo io. È scritto... È scritto...